Si chiama Ashley Graham, è una bellissima donna ed è un vero e proprio modello per tantissime ragazze, quelle che vivono con il più grande probabilmente dei disagi legato al proprio corpo. Per colpa chiamiamolo del peso in eccesso, chiamiamolo della pancetta, dei rotoli di grasso, insomma dell'atipe, che eventualmente può esserci. Io in questo video innanzitutto dico, o meglio spesso, una lancia a favore delle taglie oversize, taglie che a me personalmente piacciono molto, insomma la donna morbida non è mai brutta secondo me, può essere considerata come l'occhio, il sole all'occhiello della femminilità più completa che esista e al tempo stesso è anche un valore aggiunto della donna e che la arricchisce molto. Tuttavia Ashley, pensate che ha partecipato alla venticinquesima edizione di Urban Art Partnership e avrebbe risposto alle domande di alcuni adolescenti. Servono più donne che dicano, ok, ho la cellulite anche sulle braccia, il mio sedere ha una forma strana, ma lo ostenterò al mondo. Questo avrebbe dichiarato la bella Ashley. Una carriera che testimonia, nonostante il peso in eccesso e l'adipe in più che questa donna eventualmente agli occhi di molti può avere, comunque una voglia di primeggiare e soprattutto di non avere paura di questi chiedi in più. Accetta felicemente il suo corpo, la bella Ashley Graham, accetta felicemente e tranquillamente l'adipe in eccesso, anzi, lo rilancia, lo fa vedere a tutti e soprattutto fa sì che questa sua caratteristica diventi un valore aggiunto, quindi una caratteristica positiva. E qui, lasciatemelo dire, è molto bello il comportamento della bella Ashley, che con il suo comportamento, scusate il gioco di parole, ci fa rendere conto di essere davanti ad una donna coraggiosa e soprattutto che non si nasconde dinanzi a niente, a nessuno. Bene, brava caro Ashley, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti, grazie. Grazie.